cari amici pasticceri e appassionati di cucina eccoci con una nuova puntata di oireggio con gusto coniglietti galline corone trecce non importa la forma ma il dolce pane pasquale è una prelibatezza che fa parte in tanti luoghi dell'oreggio della tipica tradizione di pasqua ed è proprio una corona di pasqua che oggi faremo insieme alla pasticcera stiglinde pirchell dell'atelier 100 grad di brunico cara stiglinde io direi partiamo è un piacere per me essere qui oggi insieme a voi per fare la corona pasquale questi sono gli ingredienti per l'impasto di lievito iniziamo con il latte poi la farina lo zucchero il burro poi il lievito e di seguito le uova infine il sale molto importante impastate gli ingredienti fino ad ottenere un bel impasto liscio ad esempio con il robot da cucina per un minimo di sette minuti per gli impasti di lievito è particolarmente importante una buona lavorazione a questo punto l'impasto è ben fatto a forma di palla così può lievitare in modo uniforme lo risistemiamo nella ciotola e lo copriamo con un canovaccio in modo che non si formi la pelle poi lo lasciamo riposare per 30 minuti in modo che si possa sviluppare bene dopo che l'impasto ha riposato per bene lavoratelo di nuovo brevemente poi pesate piccoli pezzi di pasta da 90 grammi ciascuno fino ad esaurire tutto l'impasto poi schiacciamo bene l'impasto in modo da avere un bel pezzo compatto si può fare per esempio così con il palmo della mano e formare delle belle palline che si rimettono sotto il panno in modo che dopo si possano stendere e creare dei filoncini il passo successivo è rotolare i filoncini iniziamo col primo pezzo di impasto ma non lo allunghiamo troppo altrimenti si rompe allunghiamolo senza troppa pressione e infine lo rimettiamo sotto il canovaccio a riposare a questo punto possiamo rotolare i nostri pezzetti fino a 40 centimetri ed ora iniziamo a creare una treccia facciamo una treccia ordinaria tre fili una treccia dall'esterno all'interno molto allentata così l'impasto può lievitare bene trasformate le vostre trecce in corone intrecciando leggermente l'estremità poi mettete le corone abbastanza distanti l'una dall'altra sulla teglia al centro mettiamo un guscio d'uovo in modo che alla fine possono essere ben posizionate le uova colorate e la nostra corona pasquale sia decorata a festa coprite e lasciate riposare per 30 minuti le corone ora hanno riposato per 30 minuti e si sono formate con un impasto ben levitato e voluminoso infornate ora a 180 gradi prima potete spennellare le corone con un uovo e a chi piace cospargere con della granella di zucchero come avete visto è un dolce che ha nemmeno come avete visto è un dolce che ha nemmeno che uno può preparare a casa in questo senso non mi resta altro che augurarvi buon divertimento in cucina speriamo di avervi addolcito un po' la festa di Pasqua alla prossima ricetta con eu regio con gusto with potente you Grazie a tutti.